Per essere ancora più competitiva e attraente, la Toscana ha bisogno di infrastrutture di trasporto adeguate, servono ai cittadini e alle aziende. Queste le parole con cui il presidente della regione, Enrico Rossi, ha annunciato che è finalmente pronto l'investimento da 400 milioni di euro per il raddoppio della ferrovia tra Pistoia e Lucca. Per far partire velocemente i lavori, la Giunta regionale ha dato il via libera all'accensione di un mutuo da 200 milioni da estinguere in 20 anni. I lavori per il raddoppio del tratto da Pistoia a Montecatini saranno affidati entro agosto e partiranno per la fine dell'anno. Per il tratto da Montecatini a Lucca è in corso invece la progettazione. Oltre al mutuo, la regione investirà altri 35 milioni attraverso un contributo diretto che servirà a finanziare la soppressione dei passaggi a livello ancora aperti. Saranno infatti sostituiti da ponti e sottopassi. L'altra metà della torta delle risorse necessarie arriverà dal governo che per il raddoppio della ferrovia tra Pistoia e Lucca ha già stanziato 215 milioni di euro.